Beh a tutti ragazzi, siamo qui con un altro video fantastico dello speed drawing, come oggi sapevate, spero abbiate visto, su Instagram eWork in Progress della bottiglia di London Dry Gin E niente, ora avvierò il video fra 3, 2, 3, 2, 1, via con il video E invece l'ho preso per il culo perché il video iniziava Grazie a tutti 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 Grazie a tutti